Eccolo! Benvenuti in questo nuovo vlog! Io sono barbuto, ma non ho la barba! Ragazzi, gira questa voce di qua, che se sei nuovo qua sul canale, ti devi iscrivere e commentare con hashtag nuovo iscritto, perché il 70% delle persone che guardano i video non sono iscritti, quindi rimediate! Oggi è un gran giorno, è un giorno speciale, perché ho invitato una mia amica, che è Martina, che ha dei serpenti, dei serpenti veri, ha non giocattoli, serpenti veri! E quindi ho deciso di fare scherzi un po' a tutti qua in casa, oggi! E oggi tornerà Uso, da una mini vacanza che si è fatta, e ho qualche amica a casa, quindi... Mi fermo tu con i serpenti! Eccola! Ciao Martini! Com'è, tutto bene? Com'è? Qua mi sa che c'è la peste! Sì? E qua? Piccoli, no? Piccoli! Piccoli! Wow, wow! E' là fuori? E' là fuori! Da finissima! Da... Wow! Wow! Lei si chiama? Sì! Xina! Lei è tranquilla! Ok! Uh! Ha mai morso qualcuno? Mai! Mai! Ti dice che c'è sempre la prima volta, speriamo di no? Speriamo di no! E' morbidissima! Oltretutto mi ha appena fatto la muta, e l'ha fatta veramente bene! La muta? È lì dentro? No! Ah! E com'è che è? Speriamo di che io non sono pratico! Allora, me l'ha fatta bene, perché me l'ha fatta per intero, quindi è rimasta anche la testa e tutto quanto, so che sì, c'è proprio, si vede la forma anche degli occhi, se no a volte la fanno a pezzi, o a volte rimane anche attaccata, come lui che è rimasto un pezzo attaccato! Sta prendendo confidenza! Fa super impressione, ti giuro! Non entra! Vedere lui! Ok, passiamo a quello grande, è il momento! Vado! Wow! Wow! Merda, è gigante! Ma confronta l'altro, guarda che lingua! No, lui è bravo, se l'ho da quattro anni non ha mai morso nessuno, vedi? Anche lui! Qua c'è la muta! Lui come si chiama? Psycho! Ho visto un video su TikTok, dove c'era un serpente che andava e intanto si lasciava dietro questo... È la muta! È la pelle che cambia! È pesante! È un chilo e mezzo! Oddio! Mi sto letteralmente cagando addosso! Non hanno i denti? Sì, ma sono piccoli! Ah, sono piccolini! Aveva preso una botta in testa, che qua ha la cicatrice, perché si è ribaltata la casetta addosso! Quindi io dovevo tutte le volte aprirgli la bocca per dargli le vitamine con la siringa senza ago! Sono in attesa che a me vi usso le facciamo trovare una bella sorpresina in camera! Questa è la sua cameretta e al suo arrivo troverà questo bellissimo animalotto! Ok, allora ti appoggio qui, bimbo! Mi dovresti lasciare, ti dico! Ti dico, no, mi sta torciando! Ok, lo lasciamo qui! E' l'attesa che uso! Arrivi! Eccolo! Tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene, allora non te lo volevo dire, ma te lo dico, te lo dico, te lo dico, hai presente quel video che girano su YouTube, in America, hai presente, no? Sorprendo il mio amico, eh, questo è qualcosa che mi scoppia, ti ho fatto una sorpresa incredibile! Eh, ho fatto una sorpresa incredibile! Eh, ho fatto una sorpresa! Una sorpresa! Da te! Strana ragazzi, non ne aspetto niente da giusto! È in camera tua! Camera mia! È in camera tua! Ma è un po' così! Stai a vedere, vado a vedere! Delissimo! Non com'è? No! Dai, sono curioso! Dai, sono curioso! Dai, sono curioso! Ah, sorpresa, Bruno, c'è una sorpresa! Super regalo, super regalo! Anche per te! Dai, dai, dai! Allora, chiudete gli occhi! Chiudete gli occhi! Entro prima io con Ali! Ok! Perché voglio registrare la lezione! Secondo me è qualcosa da mangiare, tipo! Anche secondo me! Di più! Pensate più in grande! Più in grande! Ok! 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 Entrate ragazzi! Sì, aprite gli occhi! Sì, aprite gli occhi! Ma che cavolo è? 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 È un serpente! Guarda! È un serpente! Bro, ma è vero! È vero, sì! Ti piace? No! Non ti piace? Dai che ce l'ho da fare, bro! Dai! Non c'è! Io so! No! Ti vediamo giù! Dai! Un fumatore! Un fumatore di serpente! Ma ne avrei preso! No, no, dai! Bro, lo fa... Dai! Fa il serio! Stai lontano! Ma com'è? la usi come scubo che giunti nuovo lo vuoi accarezzare? guarda ti presento la mia complice Martina ecco lei è la mia complice ciao il serpente è suo piano devi guardare senza paura vieni qua dove scappi? mi piace? allora ti dico una cosa importante tu e Eva eravate le mie prime due vittime Martina oggi mi ha aiutato perché oggi faccio scherzi a tutti quelli che sono qua e di là si è addormentata Valeria faccio che si è addormentata letteralmente sul mio letto sul mio letto cosa sbagliata seconda cosa quando c'è barbuto a casa nessuno dorme qua si registra si lavora si fa tik tok si fa video su youtube non si dorme non puoi addormentarti nel mio letto ok? il mio letto quindi ora la risvegliamo in un gran modo il serpente così io sono sicuro che se faccia trovare lo serpente nel letto non ci dorme più nel mio letto io amo gli animali ok? questo voglio che si sappia anche perché ho un riccio io trovo la mia ferpa ok? ovviamente link in mio serve abitacolo e Vabbè! Vale! Sveglia! 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 È ora di svegliarsi, ascolta! A te ti sei addormentata da sola? Oh, svegliati! Ti sei addormentata da sola? Sì! Mi sa di no! Mi sa che non ti sei addormentata da sola! Ma sei sciolo! Ma che cazzo vuoi? Ma sei un coglione! Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Ma come? Ma come? Mi prendono una minchia di sergetti ma dove l'hai preso? C'è il flauto? Il flauto? Il flauto? Guarda, stai giù perché giuro! Non fare male agli animali, eh! Non si può fare! Ma è bellissimo! No! Mettili da quella scarsa! Non si fa male agli animali! Non mi faccio! Stai uscire! Ma io non ci rendi pezzi! Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Mi 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 cazzo vuoi? Vai! 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 Ti giuro! Oh, forza! Ti giuro che mi cazzo! Giuseppe! Pianta di fare il suo mano! Vai! Metti giù quella roba! Che cazzo vuoi? Non fa niente! Non fa niente! Sei cattivo Giuseppe! Dovremmo usare lui come sveglia! La mattina! Si sveglia nel fretta! Ok! Siamo tutti qua riuniti ragazzi perché per iniziare una sfida! Una prova! Solo sul canale di Baguto potete vedere queste cose! Grazie Martina! Prova di coraggio! Qua c'è una seggiola! Una postazione! Uno per uno ci metteremo qui! Martina ci fa vedere per prima perché la più confidence! I sapenti sono suoi! Ce lo metteremo al colo! Sì! Ma non sai te lo metti te! Vai! Vai! Visto un bel mondo! Io sono stufo! Che prendi iniziative ogni volta me le bocciono! Questa è una sfida di coraggio! Se tu vuoi rinunciare puoi rinunciare! Sì! Ma noi siamo entrati completamente a casa! Eh sì! Guarda ragazzi! Ho preso... Ok! Ma non stringe? No! Però adesso no! Però adesso! Perché? Mi hai seguito bene? Sì! Però adesso! Io non me lo aspettavo! Non me lo aspettavo! Ma Martina ha superato la parola! Esatto! Brava Martina! Ok! Piera! Il nostro Piera! A Piera! E tu fai da solo? Sì! Andiamo! Ok! Jesus! E' una sciampa! Io non so neanche se riesco a toccare! Ok! Un applauso anche a Piera! Bravo Piera! Bravo Piera! Giuseppe vai! Vai! Oh! Pronta per questa prova di coraggio! Facciamo... Artista! Punto per tutto! Bevita! Allora no 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 no! Facciamoci inche secondi attorno al collo! Allora vediamo! Sperando che... Ehhhh! Oddi! Ma poverini! Evita perde la sfida di coraggio! Un applauso allo stesso! Guarda! Un applauso lo stesso per il coraggio 2 secondi, che scarsa Bene Usolo Vai bro, spacca tutto Dai c'ho paura già Dai che sei musoloso Attenzione Tutto ok? Rilassati bro Se no ti morde perché sente la tensione Tutto ok? Attenzione perché i serpenti Bro sta stringendo bro Attenzione perché Attenzione ragazzi No 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 Vai vai Bro toglilo Bro toglilo Ok Prova superata Piano 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 Mi sono preso tanto Oh Tocca lei Cazzo 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 Carica Attenzione alle collane Alle collane Attenzione alle collane Cazzo Stai c'è La tua la capisce La tua la capisce? Oh la fa E stai Yeah Attenzione alle collane Attenzione alle collane Attenzione alle collane La vedo Oddio Non mi sono preso No E devi respira Respira Perché se no In mano In mano In mano In mano In testa In testa Lui l'ha già sentita Ok 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 Alessia Fanno una battaglia su Alessia Ho sperato Allora Di coraggio Vai Giuse Vai Siamo Allora Vai Giuse Eh ma Alcone è un'altra cosa Ragazzi Vai bro Ti voglio un bello carico Pesa Adesso ti si infila Nella maglia Vai bro Uno Dentro il cappuccio Magari Quanti secondi erano? Dov'è la testa? Quanti secondi? Guarda Lo chiamavano Barbuto L'uomo Che sussurrava I serbenti Che dericita Spettabella Non hai paura Ormai sono i miei amici Ma lui dorme Sei vero Un padre Ok Let's go Superato Grande Wow Prova di coraggio Abbiamo superato a tutti